Cari colleghi e cari colleghi, ho ricevuto da molti di voi la segnalazione di un caso di un cittadino slovacco, Josef Ciovanec, che è morto dopo essere estratto trattenuto in custodia all'aeroporto di Charleroi nel febbraio del 2018. Vorrei esprimere la mia solidarietà e la vostra solidarietà alla famiglia, ai suoi cari, ai suoi amici e sottolineare ancora una volta che rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto è un valore centrale per l'Unione europea. Ci associamo alla richiesta di verità e chiediamo che sia fatta chiarezza sulle responsabilità. La Commissione Libertà Pubbliche del Parlamento europeo è stata già investita del caso e il Parlamento naturalmente seguirà gli sviluppi.